Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, padre terreno e padre celeste, sono sempre gli amici che mi mettono con le spalle al muro inviandomi messaggi singolari. E' di nuovo la volta dell'amico Emi Pusa, Emiliano, che mi invia uno scritto relativo all'ultimo libro dello psicoanalista Massimo Recalcati. Massimo Recalcati ha pubblicato da poco un'opera che appare nel pregiato catalogo Raffaello Cortina, editore, un'opera che è intitolato Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna. Cosa resta del padre? Poi vedremo che questo padre sia il padre terreno che il padre celeste. Vediamo un po' che c'è scritto. L'autore Massimo Recalcati, psicoanalista di indirizzo lacaniano, scrive E' giusto? Scrive all'inizio della sua opera, intitolata Cosa resta del padre? Punto di domanda. E' giusto insegnare ai nostri figli a pregare se Dio è morto? Mi pongo questo problema come padre, prima che come psicoanalista. E poi che cosa significa pregare? Significa forse alimentare nei nostri figli l'illusione in un Dio che non esiste più e l'illusione in un mondo dietro a questo mondo qua? Significa, come pensa una certa cultura del disincanto, alimentare un rituale superstizioso? Oppure insegnare a pregare è un modo per custodire le vocazioni di un altro? Eccetera, eccetera, eccetera. Un mio caro collega non sopporta di sentirmi fare questi discorsi. Questo mio caro collega è convinto che la psicoanalisi sia un abbandono senza ritorno di ogni forma di preghiera. Dio non risponde. Il padre eterno tace. Il cielo sopra le nostre teste, come ripete Jean Paul Sartre, è vuoto, è vuoto. Beh, io voglio notare che qua si ripete in un brano abbastanza breve si ripetono locuzioni, locuzioni strane, come è giusto insegnare i nostri figli a pregare se Dio è morto e questa faccenda che Dio è morto non sta né in cielo né in terra. Che è che può dire che Dio è morto? Qualcuno potrà dire magari che la fede è diminuita, ma nessuno può dire che Dio è morto. Ma chi è che lo può dire questo? Io non so se qualcuno può dire dove è seppellito questo Dio morto. Nessuno ha partecipato alla cerimonia funebre del Dio morto. Se io mi giro dappertutto, vedo ovunque trionfare le religioni, la credenza in Dio. È giusto insegnare i nostri figli a pregare se Dio è morto? Ma chi è che l'ha detto che Dio è morto? Io non l'ho sentito mica suonare le campane a morto per la morte di Dio. Poi continua, continua, continua. Dice l'illusione in un Dio che non esiste più. Potevo accettare l'illusione in un Dio che non esiste, non che non esiste più. Perché se c'è stato prima Dio ci sarà pure adesso, ci sarà pure dopo. E poi Sartre, lo so, ho letto anch'io le lettere Le Neante di Sartre, l'ho letto anch'io, che termina con quella disperata frase L'uomo è una passione inutile? Sì, sì. Dice Dio non risponde, il Padre Eterno tace, il cielo sopra le nostre teste è vuoto. Ma perché? Chi è che ha scientificamente dimostrato che il cielo sopra le nostre teste è vuoto? E' la vecchia questione del credere, oppure la vecchia questione dell'ateismo. Ma di ciò di cui non abbiamo prove è meglio tacere. Mi pare che ho fatto questa mattina un video che ho dedicato a Margherita Hack. A Margherita Hack, mi pare che il video sia intitolato Il bosone di X e Dio. Margherita Hack. E qualche giorno fa avevo fatto il video intitolato Margherita Hack e Dio. Beh, sentite, qua questo psicoanalista si pone dei problemi giusti. Massimo Recalcati si pone dei problemi giusti. Cioè si dice, ma è giusto che un padre si metta a parlare con il proprio figlio di Dio? Di Dio? È giusto o non è giusto? E' uno psicoanalista, eh? Pensate però che anche gli psicoanalisti si pongono questi problemi, che sono problemi fondamentali. Beh, dal mio punto di vista, modestamente parlando, io evidenzio che, lo devo dire senza tema di essere smentito, che innanzitutto il grande Buddha, che io amo tanto, 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 non si è mai permesso di dire che Dio non esiste. E il Buddha non si è mica espresso come Sartre. non ha mai detto, il Buddha non ha mai detto che sopra, che il cielo sopra le nostre teste è vuoto. Niente. Ha sospeso il giudizio il grande Buddha, che di certo di cose ne ha imparate molte di più di Jean Paul Sartre, dico il Buddha. Ha messo tutto tra parentesi. Io mi permetto di dire semplicemente che esiste il problema dell'armonia dell'universo, dell'universo infinito ed eterno. Io vorrei sapere ancora, ho fatto questa mattina il video, il bosone di X e Dio, Margherita Hach. È scivolata Margherita Hach, ha detto che il bosone di X e Dio. Sì che è semplicita. Poi dopo ha detto però che adesso ci sono ancora tantissime altre cose da scoprire. Magherita Hach, ma dico, cara scienziata, io ti rispetto tanto e ti apprezzo tanto, cara scienziata, ma lo vedi che c'è l'armonia? Non lo vedi come è costituito un atomo? C'è il macrocosmo, c'è il microcosmo, non lo vedi? E beh, c'è l'armonia. E questa armonia che rinvia al mistero, ed è nella dimensione del mistero, che si giustifica la fede. E questo è il discorso da fare ai figli. Gli si dice ai figli, figli, caro figlio, vedi quello lì del sistema solare. E questo qua è la composizione di un atomo. Guarda un po' te, che armonia che c'è sia nel macrocosmo che nel microcosmo. Per cui si può ritenere che ci sia qualcosa. Di certo nessuno può dimostrare che non c'è nulla. che non c'è nulla. Nessuno non può dimostrare. Meglio tacere. E in ogni caso, in ogni caso, è sempre bello ritenere che, visto che c'è tutta questa armonia nell'universo infinito ed eterno, è sempre bello ritenere che questa armonia sia rivelatrice di un mistero e che questo mistero sia la base della fede. Qua vi fermo, cari amici. Grazie se mi avete ascoltato. E a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni. Grazie. Grazie.